Allora, David, Michele e Mauro, complimenti. Dichiarazioni per la stampa per questa qualificazione olimpica. Ma che dire, molto sofferta, difficile, sapevamo comunque che era dura contro l'India e lo sci-top è ben tirato veramente bene. Qualificati. E adesso? Adesso andiamo avanti, visto che ci siamo, ci proviamo, no? Il gioco si fa duro? Adesso iniziamo a giocare. Ragazzi, complimenti. Grazie.